salve ragazzi torno a fare un video a distanza di un po di tempo niente cosa c'è da dire c'è da dire che dopo l'eliminazione comunque un po di delusione latente in tutti i tifosi della juventus c'è perché non veramente io non è che mi aspettassi di vincere la champions però passare col villareal credevo di potercela fare anche perché nelle dichiarazioni di allegri c'era anche il discorso di preparare la juventus per marzo per essere pronti per questi eventi qua e invece non eravamo pronti neanche stavolta pazienza detto questo notizie di giornata sembra fatta per rudiger e io credo che se dovesse arrivare rudiger quello che esce fuori sarà delic perché non credo che possano coesistere poi la juventus comunque bonucci lo manterrà in rosa probabilmente arriverà bremer perché almeno mi si dice che sono molto avanti con la trattativa con bremer anche se c'è l'inter di mezzo quindi da oggi in poi ci saranno molte notizie sulla juventus si parla dell'arrivo di di un nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere sartori direttore generale direttore sportivo comunque una figura che guiderà la parte sportiva della squadra comunque andare a beccare dei giocatori forti a condizioni favorevoli perché comunque il mancato introito anche di questa parte di soldi comunque ci darà comunque ci darà qualche difficoltà in più a chiudere delle trattative detto questo adesso anche la polemica su di bala sterile credo perché adesso devo trovare modo per fare polemiche io credo che alla fine di bala rimarrà alle condizioni della juventus non so se rimarrà allegri ragazzi parliamoci chiaro se allegri raggiunge il quarto posto e e vince la coppa italia stagione deludente al massimo però alla fine della fiera l'anno decisivo per allegri sarà il prossimo se non dovesse andare in champions ragazzi allegri non può rimanere a torino ma se non dovessimo centrare il quarto posto allegri se ha un minimo di dignità si deve dimettere lui io avrei rimesso le dimissioni anche alla fine della partita col Villareale poi la società le avrebbe rifiutate probabilmente però a me spiace ma se non sei più adatto a a guidare comunque una squadra e a creare un progetto serio che riporti a vincere una squadra ti devi fare da parte poi io spero di sbagliarmi per il bene della juve perché a me sinceramente o mi ci porta allegri alla vittoria o mi ci porta italiano o mi ci porta tudro o mi ci porta denag a me poco mi interessa mi interessa che la juventus sia una squadra forte convincente che faccio un calcio che comunque hai piacere di vedere una partita quello che con allegri non succede è quella la cosa che dispiace di più vedere una squadra che non ti mette allegria a guardartela non ti mette gioia di vederti nella partita della juve a me questo dispiace molto più che tutto il resto la vittoria è bella ma se è fatta con un calcio che comunque ti crea delle emozioni è molto più bello detto questo ragazzi allora tra un po' ci sarà la live conferenza di Gianni Bianco dove sentiremo le parole di allegri post eliminazione e pre juventus salernitana a seguire ci sarà la mia live reaction e i commenti post conferenza di Max Allegri seguiremo la live di Napoli di Napoli Udinese faremo due chiacchiere sulla situazione attuale comunque e sulle prospettive future della juventus colgo anche l'occasione per dare il benvenuto anch'io a Giovannino nella crew che comunque è una figura che viene ad appoggiare spacca nella difesa strenua di Allegri anche se il buon spacca anche lui un po' ha ceduto su Allegri perché effettivamente a detta di tutti questo è un fallimento comunque ragazzi ci vediamo tra un po' nella live di Gianni poi a seguire chi vorrà fare due chiacchiere sulla situazione di Juventus e seguire la partita del Napoli ci sarò io per un paio di orette con voi vi saluto a tutti e ci si becca presto mi raccomando tutti i canali della crew iscrizione e campanellina un abbraccio a tutti